Emozionante, appassionante per i colori giallorossi, dannata per i colori rosso-blu. Può essere questo, in buona sintesi, ciò che lascia l'avvincente match tra la Torrese e la Capolista. Un primo tempo nel quale l'Aquila ha avuto la possibilità di passare più volte, ma si è trovata nel mezzo il vantaggio di casa. Gli highlights di Manuel Centurame. Al decimo va via Marchionni sul lato corto, fermato in angolo dagli sviluppi, l'allungo di San Rizzo in balla e su tutta l'area senza che nessuno impatti la sfera. Ancora l'Aquila, cinque minuti dopo Alessandro viene anticipato sul più bello bup provvidenziale, salva tutto. Al ventitresimo, bella azione di Carbonelli che mette dentro un bel pallone, prova la battuta secca Marchionni, fermato solo dall'istinto di Egidio Aquiles. Gol mangiato, gol subito. L'azione nasce dai piedi di Mbup che commetterebbe un fallo al limite del regolamento su San Rizzo. Il pallone perviene a San Severino che con un destro a giro beffa Mascolo. Proteste vibranti dei giallorossi rosso-blu che a nulla valgono a far cambiare idea al direttore di gara che così convalida l'1-0. La replica Aquilana al 35esimo, piazzato di Massetti sotto misura, non manca la deviazione Brunetti, semmai la precisione. Al 44esimo Cellucci, al termine di una bella combinazione sulla sinistra, lascia partire un tiro forse troppo debole per far male. Si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, angolo rosso-blu, zampata di Brunetti ed intervento salvifico di Mbup. Poi un gol annullato ad Alessandro su segnalazione dell'assistente, mentre Epifani intavola l'attacco con Santi Rocco. Ed è proprio il neoentrato che riceve al centro dell'area ma si fa ingannare da un controllo in rimpallo. Sul fronto e opposto c'è la sostituzione di Cellucci ed entra Elia. Al 21esimo, Festa si mette in proprio ed impegna le capacità di Mascolo, che però gli sbarra la porta. Poi arriva la doppia ammunizione per Carbonelli e quindi l'espulsione con Aquila in 10. Dagli sviluppi, angolo, destro di Mbup, botta sicura, palla che tocca un giocatore e si impenna in out. L'Aquila raddoppia le forze al 32esimo, rasoterra diagonale di Marchionni che Egidio Aquiles ferma e blocca a terra sul palo di destra. Entra anche Diarrà al posto di Cassese, Epifani le prova tutte in pratica senza difensori centrali e raccoglie i frutti al 42esimo. Angolo di Massetti, colpo di testa implacabile di Santi Rocco. Uno a uno, l'Aquila ci crede, forse si espone troppo e la Torrese la punisce. Al 44esimo, portiere e travessa, fermano Elia, la sfera rientra in campo ma nulla può contro il destro di festa che mette praticamente in porta un isperato quanto avvincente. Due a uno. Sì, sì, vabbè, ma siamo rimasti in buonissimi rapporti, io personalmente con Andrea, con Sciibba, insomma, sono ragazzi che hanno dato l'anima fino a quando sono stati da noi. Adesso vestono una maglia diversa ma rimane il rispetto, quindi loro hanno fatto di tutto per poter vincere la partita. Noi abbiamo fatto la nostra partita, quindi ripeto, ce la meritavamo e sono contento soprattutto per la società che fa tanti sacrifici in una realtà così piccola. Vincere oggi contro l'Aquila, capoloco di Regione, quindi siamo contenti e ci portiamo a casa questi tre punti con gioia. Sì, è una partita strana, secondo me abbiamo fatto una buona partita noi contro una squadra forte. Il primo gol, l'arbitro dei fiscali fallo, fallo tutta la vita. Dieci minuti prima ci siamo fermati, noi stavamo andando in porta, abbiamo preso un gol, tutti fermi, San Rizzo a terra, abbiamo preso il gol. Però credo che oggi, ripeto, non mi lamento mai degli arbitraggio perché poi diventa quasi un alibi, ma non è un alibi. Io se andate a vedere, io credo che se ve la guardate tutti quanti, oggi tutti gli episodi, ammunizioni, c'è stato un calcio di rigore alla fine, manetti ragazzi fallo di mano clamoroso. L'andamento della gara da parte dell'arbitro credo che sia stato a sfavore nostro nettamente. L'avamo recuperata, poi siamo stati magari anche un po' ingenui a prendere il 2-1 perché dopo che hai fatto uno sforzo in mane per recuperarla, la partita la devi portare a termine 1-1. Però sono dispiaciuto perché qui si fanno tanti sacrifici, parte società, parte nostra. Ci stiamo lamentando un po' troppo degli arbitri ogni volta. E questa è la cosa che ci dispiace di più perché poi io chiedo solo equità quando si arbitra. Anche per il fatto dei cartellini è stato a noi, a sfavore nostro sempre. Dispiace, dispiace. Perdiamo una partita, sicuramente ci dispiace tantissimo, però siamo ancora lì davanti. E quindi questo è un dato importante. Quindi dobbiamo pensare, come ho detto sempre, che il giorno di ritorno sarà così. Insomma, purtroppo la bestia nera, la Torrese, perché la partita dell'Aquila c'è stata, si è espressa sia tatticamente anche tecnicamente, anche soprattutto rispetto a domenica scorsa, è stata molto superiore alla gara dell'Aquila oggi. Ma sicuramente, oggi ho fatto, io ripeto, sono molto lucido quando analizzo e quando guardo la partita. Credo che oggi abbia fatto una partita importante, forse se la facevamo domenica scorsa la vincevamo. Però dopo gli episodi oggi ci hanno condannato. C'è un pizzico di rammarico perché poi quando devi rincorrere, quando devi giocare contro pure altri fattori, dispiace. Ho detto prima, uno, non voglio essere un piangino, oppure se guardate gli episodi di questa gara, ma tutti gli episodi, anche le ammunizioni, ci rendiamo conto che è qualcosa che non mi torna. Il campionato è questo, il campionato di eccellenza è questo. Sì, il campionato di eccellenza è questo, ma io l'ho detto ragazzi, adesso ci le chiamo le ferite perché siamo arrabbiati, perché abbiamo perso, perché poi quando si perde si è sempre arrabbiati. Però può fare bene questa battuta adesso. Può fare bene, però dobbiamo fare un mia colpa perché sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, perché anche sull'1-1 che abbiamo fatto un recupero incredibile con un grande gol di Santi Rocco, dobbiamo essere più freddi e lucidi a capire la situazione che poteva portare a casa anche un pareggio, perché poi vedendo i risultati delle altre squadre poteva essere importante, anche se non è cambiato niente perché fortunatamente con una partita in meno siamo ancora davanti. Oggi poteva succedere in verosimile che perdevi e magari il Giulianova ti passava davanti. Potrebbe essere un segnale, quindi ci pigliamo questa sconfitta, ce ne andiamo a casa, e pensiamo da martedì a preparare la partita con il Montesipane e cercare di vincere a tutti i costi.